Musica Allora, sciarpe? Ne abbiamo ancora? Sì, Ragnoli con Domeni, grazie per essere qua con noi. Allora, siamo ancora in Italia con il nostro Stefano, con la 205, beh, in mezzo ai tedeschi, in mezzo ai greci. Bello questa comunità internazionale, eh? Sì, effettivamente, bella partecipazione anche da parte degli equipaggi stranieri, che poi dopo, diciamo che la socializzazione comunque è da parte di tutti e quindi molto bello anche partecipare quando ci sono anche altri equipaggi. Bello, 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 molto bello, mi fa piacere. Vai, Ragnoli, sarà bellissima giornata di gara, ne sono pienamente convinto. Bello, 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 bello. Bello, 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 bello. Bello, 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 bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.